E' proprio una beffa chiudere il teatrino delle beffe, sosteniamo questo teatrino delle beffe, non facciamo che diventa una beffa, come puoi fare a sostenerlo? Basta andare su internet, andare a cercare, ora qui chiedo il suggerimento perché è una beffa Eppela.com e lì troverete, sosteniamo il teatrino delle beffe, salviamo, lo sosteniamo E' importante che il teatro non chiude, picchiene amore, ragazzi, su Nico Nico, fa spettacoli per bambini divertenti Per favore, non facciamo diventare anche questa volta una beffa, un teatro che chiude, no Viva il teatrino delle beffe!